Ciao a tutti e benvenute sul mio canale. Oggi facciamo le chiacchiere di carnevale o dette anche bugie. All'interno di una ciotola andiamo a mettere un uovo intero con un cucchiaio di zucchero, un cucchiaio di liquore all'anice, chi non ce l'ha può mettere anche un cucchiaio di vino bianco e un cucchiaio di olio di semi di girasola. A questo punto possiamo grattugiare un limone, un cucchiaino di lievito per dolci e un pizzico di sale. Ora un po' per volta possiamo incorporare 140 g di farina 00 già setacciata. Ora lavoriamo su una spianatoia e con l'aiuto di un materello lo andiamo a stendere sottile. Ovviamente a questo punto dobbiamo creare le classiche forme delle bugie. Quando l'olio sarà caldo le possiamo friggere. Se volete farle in forno mettiamo in forno a 200 gradi per 10 minuti. A questo punto le chiacchiere sarebbero già pronte però siccome noi siamo molto golosi ho sciolto del cioccolato fondente a bagnomaria e l'ho versato sulle chiacchiere e in più ho aggiunto delle codette rosse al cioccolato. Ciao, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e continuate a seguirmi. Grazie per la visione!